Con il winner, il double poleman, il hero di questo weekend di Monza, Patrick Cugliela. Il tuo primo racconto in Lamborghini, il tuo primo racconto in una gt-car, come ti senti ora? Buon sentimento, grazie per la squadra, un bel lavoro fatto tutto il weekend e spero che possiamo farlo ancora in Silverstone, grazie per la squadra. Quale è il tuo racconto per la squadra? Non so se speri per il titolo inizio, dopo il testo, credo che puoi guardare la classificazione all'inizio. Quale è il target? Penso che è abbastanza possibile vincere il titolo. Come il team mi ha già detto, la possibilità è lì, abbiamo un buon pace, il carro è buono, ovviamente spero per il titolo e spero di vincere.